Biglietto con bottoni! Vediamo come realizzarlo! Ciao a tutti! Oggi vorrei vedere come realizzare questo semplicissimo e velocissimo biglietto di auguri per Natale utilizzando dei bottoni che sicuramente tutti noi abbiamo a casa in eccedenza. Ma prima volevo augurarvi buone feste e buon Natale! Passate questo periodo, questi giorni in serenità, in allegria, in armonia con la vostra famiglia, i vostri amici e parenti. Ora cominciamo! Prendiamo del cartoncino del colore che più ci piace e lo pieghiamo a metà. Con una penna nera a punta sottile realizziamo questi filini che servono appunto per appendere le nostre palline di Natale e poi il fiocchetto. Ora con un po' di colla a caldo incolliamo dei semplici bottoni, proprio qui è la fine di questi filini che abbiamo appena disegnato. Quindi non vi rimane altro che aggiungere le nostre palline di Natale, quindi non vi rimane altro che aggiungere le nostre palline di Natale. Non vi rimane altro che aggiungere una scritta come ho fatto io oppure un'altra decorazione e quindi il lavoro è terminato. Che ve ne pare? Che ne pensate di questa idea? Come sempre fatemelo sapere con tanti like al video e commenti qui sotto. Grazie per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, è stato d'ispirazione e è stato utile. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!